Mister Bonura, intanto complimenti e grande prestazione del suo Follonica Gavorrano, primo tempo straordinario. Sì, sì, abbiamo fatto veramente un primo tempo da categoria superiore, veramente, abbiamo fatto bene sotto l'aspetto del palleggio, delle uscite, quando ci veniva a pressare, abbiamo rischiato poco e abbiamo condotto bene la gara. Dopo il secondo tempo, gli ho detto ai ragazzi che bisogna stare attenti perché qui un attimo basta un gol per incendiare un po' l'ambiente, i primi cinque minuti abbiamo fatto tre tiri dal limite all'aria e nei primi tre tiri del secondo tempo abbiamo rischiato, se prendiamo gol, magari il partito potrebbe cambiare, però penso che la mia squadra abbia meritato in pieno... Si è l'impressione che lei abbia preparato con particolare meticolosità questi play-off perché in pratica siete arrivati proprio al punto giusto, al momento giusto per esprimere forse il miglior caso. Allora, ringrazio per i complimenti, sì, abbiamo preparato, no, la partita adesso noi venivamo da un periodo come ha fatto l'Arezzo, quindi è chiaro che abbiamo avuto anche la Coppa, adesso abbiamo due finali da fare importanti dove ci giochiamo praticamente un'annata e abbiamo preparato bene, è chiaro che dopo, se a giocare la sera è diverso che al pomeriggio, quindi se avessimo giocato al pomeriggio sicuramente sarebbe stata una partita anche con poca intensità, secondo me, invece così è venuta fuori una bella partita con anche una bella cornice di pubblico e sono contento perché ragazzi sono venuti qua con personalità, con coraggio e abbiamo fatto bene meritando la vittoria.